Musica Marchio Vigar 2, che significa? Significa sicurezza sulle strade dei nostri clienti I servizi? I servizi facciamo gommista, facciamo meccatronica, climatizzazione, assistenza Diciamo un bel pezzo di fetta per i nostri clienti Insomma, cerchiamo di impegnarsi per portare avanti con serietà tutto il nostro lavoro L'assistenza? L'assistenza, facciamo l'assistenza sia fuori che interna alla città che anche fuori Quindi facciamo un'assistenza completa 24 ore su 24 Significa che state sempre vicini ai vostri clienti? Sempre vicini, senza di loro non possiamo stare Le ragazze amaranti trionfono anche in Lombardia Varese in casa della Zalea Solbiatese Con un gol per tempo di Gnischi e Ivanova Conquistano l'intera posta in palio Le ragazze amaranti si rendono pericolose sin dalle prime battute di gioco Sostenute da un buon ritmo che costringono agli straordinari E la retroguardia avversaria Rendendosi pericolosi con la ciccarella e la Ivanova Fino a trovare la rete del vantaggio Cognischi che trova la giocata vincente e spedisce il pallone alle spalle di Mazzon Ci prova anche la Razzolini ma senza fortuna Reagisce la formazione locale Pellegrini Una bella giocata si libera per il tiro ma viene anticipata dall'uscita coraggiosa di Seica La ripresa si apre con le Lombardi in avanti e conclusione di Pellegrini che non inquadra la porta L'Arezzo tiene e nel finale mette a segno la rete del definitivo KO Lancio della Razzolini dove si inserisce l'Ivanova che anticipa l'uscita di Mazzon E tocca quanto basta per mettere a segno la sua prima rete con la maglia amaranto E chiude in anticipo i conti Anche se negli ultimi minuti la Zalea e Solbiatese si rende pericolosa Ma il risultato non cambia L'Arezzo calcio femminile può festeggiare il meritato successo